e ciao a tutti da Sonia Leditech dal vostro Luca Dng benvenuti per un altro video dedicato dell'ottavo blocco ormai abbiamo già raggiunto l'ottavo ma questo è solo grazie a voi che avete continuato a partecipare e che man mano negli anni o nei mesi ci avete sempre spedito qualcosa sia in digitale ma anche fisico mandate mandate oggi è di nuovo giunto il momento di un pacco fisico proveniente da Sephiroth 93 ciao grazie carissimo per aver partecipato ancora un'altra volta perché lui l'aveva già fatto ci aveva spedito un pacco pieno di le cornie di cose tipiche da assaggiare dell'Emilia Romagna del posto appunto dove vive lui quindi grazie di cuore grazie l'ultima volta era stato un pacco godurioso molto buono vario c'erano tante cose dolci salate che si poteva assaggiare abbastanza anche velocemente noi per velocizzare il tutto abbiamo già rimosso un sovrapacco che già c'era e il pluriball cioè il pluriball quella materiale di da imballaggio fatto tipo a patatina bianca nuvola quella così e quindi adesso dal momento che ci siamo velocizzati così tanto possiamo partire prima di tutto abbiamo una lettera che è ancora sigillata non c'è nessun avviso che ci dice se leggerla prima o dopo l'assaggio tu aprimela che al massimo se vuoi la leggo io ma aprimela tu vedo che per l'appunto è tutta roba non sneccosa un po più ci vorrà un po più di preparazione meno male che mi sono preparato sul tavolo già roba nel caso ok è stato scritto al computer quindi penso che sarà anche facile da leggere leggi tu e si capisce lo leggo io no è che ci sono le note musicali spero non voglia dire che lo devo cantare si lo devi cantare ah no 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 allora affido a te questo compito di leggerlo in modo canterino ah e sarebbe romagna mia vabbè evviva la romagna evviva il san giovedere così cantavano i nostri nonni i nostri essi romagna mia romagna in fiore tu sei la stella tu sei l'amore così cantava il compianto raul casadei purtroppo possiamo farci poco carissimi sony lady tecken e luca di engrims io così vi saluto oggi vi propongo altri prodotti tipici della romagna quindi sono diversi dai precedenti questa volta però ho voluto essere più preciso in che senso per ogni articolo troverete un numero e qui sotto la lista di quelli scelti con informazioni varie io vi ringrazio nuovamente grazie per la professionalità grazie dei sorrisi e delle risate insomma grazie di tutto bando alle ciance vi lascio alla lista quindi un secondo cerchiamo il numero uno no vabbè allora aspetta qui già vedo un formaggio un salame un che non so cos'è il saba bu non lo so un parmigiano e bu ok allora io inizierei col salame perché effettivamente come sapete sonia non è un amante dei formaggi quindi adesso vedremo cosa assaggiamo tutte e due cosa assaggia solo lei ma partiamo da salame però io qui ne vedo due cioè secondo te sono due a me sembrano due salame questi così qua e qui ce ne sono scritto uno allora uno è il saba aspetta c'è il numero lo leggi il numero trovami il numero sì ma questo si vede anche la vista che è un salame e questo questo scusatemi lo apriamo subito e guardiamo cos'è perché non capisco altrimenti anche perché c'è comunque ancora dell'altro materiale da imballaggio che impedisce di vedere totalmente sì sicuramente per non prendere gli urti ne ha messo un vetro c'è anche qua dentro sembra una bottiglia è una bottiglia ma che salame sono un cretino io è una bottiglia salame sono un idiota beh ma c'era tanto imballaggio prima mica si capiva che era una bottiglia è il saba ok questo è il saba quindi si beve forse è un condimento sì ok lo guardiamo dopo allora iniziamo la salame questo lo posizioniamo qua quindi leggiamo la descrizione del salame di mora romagnolo la mora è una razza di suino antica e autoctona risultato di lavorazione artigianale con stagionatura di minimo 60 giorni è insaccato e legato a mano come da tradizione consiglio personale ottimo da assaporare nell'antipasto tipico di romagna giardiniera tipica, scalogna sott'oglio, gnocco fritto o piadina e salumi vari o la piadina romagnola proprio di là quindi andrebbe benissimo allora vado a tagliarla sul tagliere che vedete là dietro sul tavolo ci rivediamo tra poco abbiamo tagliato due fette di questo salame l'odore è buono e ce lo assaggiamo spero di capire subito la diversità da il solito che compriamo anche noi è buono non è strong non è un tipo di salame molto selvatico molto eh perché appunto è di maiale è molto leggero perché per esempio confrontandolo con quello che compriamo noi il sapore è molto più leggero è molto leggero ed è godibile insieme appunto ad altro come ha scritto lui insieme ad altro fa la sua porca figura quindi di sicuro allora e ci sono comunque buono eh buono buono apprezzato grazie mille ci durerà una vita una vita ah 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 mi conosci allora poi formaggi ce ne sono due c'è il parmigiano reggiano e il formaggio di fossa di sogliano poi c'è quel liquido che però sto liquido allora leggiamocelo perché secondo me non possiamo assaggiarlo non so vi ricordate il savor di Romagna nel video precedente? sì come il savor si tratta di mosto d'uva però questo è liquido è ottima in dolci e crostate per accompagnare carni bollite e bianche può essere diluita con acqua per ottenere un gustoso dissetante diluita con acqua ah ma tra l'altro c'è il tappo pure mica richiudibile no c'è quello quello da stappare è particolarissimo allora sabati Romagna vediamo se riusciamo a mostrarlo allora consigli gamberoni fritti pollo suino polenta fagioli crostate biscotti gelato vaniglia eh ma non c'è scritto nell'acqua siamo sicuri ma se lo dice lui che lui è del luogo quindi lo apro e ne metto quanto nell'acqua quanto dici di metterne? non lo so io non lo vedo una cosa da provare nel video no no è una cosa appunto come ha detto lui da mettere qualcosa sopra sopra il gelato ma non sono cose che si mangiano nel video se volete sapere se questo ci è piaciuto oppure no leggete nella descrizione noi lo assaggeremo poi questa sera insieme alla carne che dobbiamo mangiare a no questa sera domani sera con la carne che dobbiamo mangiare a cena e scriveremo nella descrizione come ci è sembrato quindi grazie 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 leggi sotto come ci è sembrato poi abbiamo il formaggio di fossa che è roba mia prego sarà questo? penso di sì non c'è scritto ah sogliano c'è scritto sogliano sì formaggio di fossa di sogliano partiamo con una delizia a parer mio le fosse di sogliano talamello e sant'agata feltria sono molto rinomate riconosciute come DOP stagionato tre mesi e per intenditore chi piace degustare il formaggio in generale consiglio grattugiarlo nella pasta e mescolare ok adesso io me ne assaggio un pezzettino così ah no dove sì che tu il formaggio di sicuro lo apprezzi molto più di me sì vado un attimo a tagliarlo eccomi qua lo ho una scaglia non so se il contorno del formaggio è da scartare oppure no a me sembra mangiabile quindi mangio tutto se non è così dammi del pirla se è virato perché me lo merito ma lo assaggio è un bacino adesso ha il gusto formaggio particolare scusami ma è particolare ma cosa vuoi da me ci metto un po' non sto dicendo niente tutto è molto particolare minchia come ve lo spiego allora ne ho mangiati diversi di piccolini sia sardi piccanti da tutte le parti è molto buono mangiato già così da solo andrebbe accompagnato probabilmente con un bicchierino di vinello ma proprio di quello buono hai presente quei taglieri dove ti vai proprio ad assaggiare l'assaggino insieme a e probabilmente sulla pasta è la morte sua ha un sapore non ha non è un formaggio di quello che ti ficca il pugnazzo dentro di sapore quello è aromatico man mano che lo gusti più tu lo passi in bocca più senti tanti sapori ma delicati non ti fa pizzicare la lingua non è uno di quei di quei formaggi forti è proprio delicato ma tanti sapori mescolati è particolarissimo è molto molto buono non l'avevo ancora assaggiato un pecorino così buono bravo è una roba buona c'hanno c'hanno roba buona eh nel miglio romano minchia se ne hanno poi il saba non posso il parmigiano reggiano vabbè qui penso non ci sia niente da dire è vero si può trovare anche nel supermercato e già vi avevo spedito un fiocco di forma questo però secondo me è veramente superlativo provare per credere ah ok questo è superlativo madonna ma che pezzettone che pezzettone di formaggio di parmigiano mamma mia ma costano tanto di questa grandezza mamma mia se costano va bene assaggiamolo ma di solito io il grana padano e il parmigiano li mangio tranquillamente perché mi piacciono proprio non mangio magari gli altri tipi di formaggi perché non mi piacciono perché non fanno proprio per me di gusto ma comunque il parmigiano e il grana sempre mille volte salutiamo i fratelli terranova che producono questo formaggio no non producono lo vendono e salutiamo tavola amica che lo produce eccoci qua con la nostra scaglia di parmigiano questo lo proverò anch'io appunto e assaggiamolo stagionato che puoi dire dove lo metti lo metti sarà sempre buono questo mettilo sulla pasta è buono mettilo è buono è buono c'è proprio proprio poco da fare lo metti insieme al prosciutto lo metti insieme lo metti su andavo abbastanza sul sicuro che appunto è buono mi sarebbe piaciuto perché ripeto sono questo e l'altro tipo di formaggio sono gli unici due che mangio volentieri e che fanno proprio a gusto mio quindi grazie di sicuro devo andarci piano perché hai fatto un buon regalo anche a me almeno anche io ho una parte di formaggio da mangiare ogni tanto porca questo è buono mi piace veramente tanto questo è molto buono ed è stagionato anche al punto che piace a me perché magari quelli che rimangono meno stagionati questo è 30 mesi non mi convincono sì abbastanza poi altro sì è rimasto questo c'è un cubo qua un rettangolo il numero non lo vedo neanche qua ci manca crema di pistacchio ah dai non l'avrei detto no mi sembrava un altro pezzone di formaggio wow ma a noi come gusto il pistacchio piace tantissimo come gelato come proprio da mangiare così i pistacchi come crema nei dolci ci piace tantissimo sempre che sia ovviamente fatta bene giusto ringrazio sempre appunto di non avere allergie o cose quindi se volete mandarci della roba potete almeno stare tranquilli che non soffriamo di di problematiche babbi babbi è la marca? penso proprio di sì babbi pistacchio oh sigillo di garanzia a me sembrano tutte cose che costano questo sembra questo sembra una vera lecornia un attimo vado a tagliare ma chissà sarà proprio marmellata roba da mettere nei tossi così adesso leggo sembra proprio da barattolo eccoci qua uh persino col certificato suo dolci ricette c'è un librettino delle ricette malonna che barattolone allora sei un pazzo sefirot io te lo dico perché questo costa questo costa sei un pazzo cioè questo costa anche il reggiano ma mio dio ma di solito le cose al pistacchio costano allora leggiamo la qualità concludiamo ora con un piccolo dolcetto minchia piccolo visto che i babbini vi sono piaciuti sì in particolare quelli al pistacchio ecco la versione spalmabile enjoy così si facciamo enjoy su che lo spalmiamo su che lo provo cioè che abbiamo che possiamo abbiamo solo delle fette di pane pan carré ok allora un attimo che continuo a leggere bonus piccolo omaggio della traduzione uno stro ah c'è ancora della roba ma come sì uno stro è vero finaccio uno stro finaccio con raffigurate le regioni delle miglia romagna e prodotti tipici se vi se si va in un'osteria di solito troverete questo tipo di stampa color ruggine e con questo io concludo con la speranza che sia stato di vostro gradimento vi saluto e vi ringrazio al prossimo assaggi dalla Romagna un caloroso saluto da sefirot93 quindi c'è da sperare una prossima parte di di assaggi da parte delle lecornie che ci manda sefirot piccolo spoiler per la prossima puntata c'è uno spoiler eh allora bene dai dai mamma Genova vorrebbe partecipare inviandovi un prodotto che solo dalle vostre parti trovi se sali leggermente o scendi ti imbatterai nelle varianti ah ok ciao mamma ci hai lasciati proprio con un grosso punto di domanda sì sono curioso sì è vero qui da noi ci sono dei prodotti che hanno enormi trasformazioni in giro per l'Italia quindi effettivamente uh è grosso dove dovrò andare indietro per mostrarla è dritta? tu che la vedi no però credo che un po' si capisca anche se non è perfettamente dritta adesso la voglio vedere anche io è una mappina vabbè dietro non c'è niente uh bella caspita ma questo è da appendere non è uno strofinaccio questo sarebbe no io non lo uso di sicuro per pulire è troppo bello queste cose mi piacciono non mica le voglio sporcare magari la metto sopra il tavolo come piccola tovaglia come centro tavola ma quando non si mangia perché di sicuro lo merita molto di più che essere usato come strofinaccio secondo me certo certo mi piace molto bello grazie ah giusto c'è sta cosa da assaggiare allora momento e ci siamo mi sono preparato con una fetta di pane tostata apriamo questa si è aperto facilmente oh mio dio era tutto incollato anche sopra ecco fai piano 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 vedi un po' si mmm mmm l'odore è già molto buono tieni il coltellino spalmabile lo prendo da qua direttamente o vuoi che ma prendilo da dove vuoi io mamma mia che buono odore arriva fin qui mamma mia questo ne metto un po' su tutta la fetta ok eh beh certo che ok mado guarda com'è bella si spalma veramente bella è praticamente una nutella fatta di pistacchio mio dio ok una fetta dai mamma mia questa non è per chi ha dieta eh ve lo dico se state facendo la dieta dubito che questo sia un alimento che fa per voi no vabbè ma ogni tanto lo puoi mangiare dai il dottor nosaradan non gradirebbe che voi mangiate questo lo salutiamo lui ci segue sempre ovviamente il nostro pan ne metto ancora un po' no vabbè assaggio così dai porca miseria che buono che buono ci sporcheremo sì l'odore è perfettamente quello dai si vede si sente che è di qualità minchia assaggiano cosa stiamo parlando mamma mia ma io mi cituffo in sto baratto e ne ho assaggiato un pezzo con diciamo poco eh dolore veramente e prima mi ero a malapena assaggiato la cremina da solo e no questo vince vero lo stavo proprio per dire anche io the winner is ma proprio se vi capita che dalle vostre parti si vende sta crema delizia babbia al pistacchio prendetela prendetela che costi quel che costi prendetela è buona è buona se è una cosa costa ma è di questa qualità ne vale la pena è buona babbi bravi cioè cioè ma è strabiliante qui si sente la qualità si sente che è proprio gusto 100% pistacchio perché di solito quando tu compri una cosa lo senti un po' dietro deve avere il gusto pistacchio è talmente industriale che non non lo ricorda neanche da lontano il gusto del pistacchio ma questa proprio anche se ne metti poco lo senti che proviene proprio dal pistacchio senti l'odore il profumo già che viene su è una roba incredibile che tu lo mangi da solo lo mangi sul pane lo puoi mettere se lo metti sopra un coccio di porcellana e ti mangi il coccio di porcellana diventa buono anche quello cioè puoi leccarti i mattoni con sopra questo veramente diventa buono tutto no ma è assurdo è molto buono grazie Sefirot mamma mia è una roba un regalone già solo con con questa crema di pistacchi ma anche per tutto il resto che era dentro il pacco almeno tutto quello che abbiamo potuto assaggiare vabbè sti cazzi che che le arachidi possono essere sia dell'ue che non della ue chi se ne frega sono pistacchi buoni cioè effettivamente sì attenzione può contenere frutto a guscio no ma figurati ma proprio no dicevo è una delle poche cose che ho assaggiato al pistacchio che mi piacciono proprio che mi soddisfano pienamente perché è difficile trovare qualcosa che abbia proprio il sapore originale del pistacchio che non sia industriale o che sia troppo poco qui è veramente una cosa di qualità tu prima parlavi delle calorie sì del non leggerle del fratto no ma per quanto dipende per quanto per cento grammi e chi è che ne mangia cento grammi vabbè ma loro te lo fanno te lo fanno su quella percentuale tu mi parli di cento grammi ma chi eh ma si si vede su quello e poi ti fai il calcolo però ci sta ci sta wow a parte che tu hai bisogno di ingrassare sì vabbè fossi in te non mi preoccuperei grazie wow tutto buono con malsò mi è piaciuto tutto sì c'è davvero sorpresi perché non ci aspettavamo qualcosa del genere dove ha detto che quello che infigliava questa crema ce la teniamo stretta l'hai rimessa nella busta sì mi hai detto di fare spazio sì 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 perdon no è che volevo leggere lui secondo lui anche cos'erano le cose più appropriate se l'aveva no forse aveva scritto sono spalmabile enjoy sì enjoy allora enjoy è veramente perché veramente va bene è troppo buona la puoi mettere sul cavolo che vuoi su un biscotto su una cosa su quello che ti pare è fantastica io non so con cosa potrebbe non essere buona è una roba che veramente sto parlandone fin troppo me ne rendo conto tanto vabbè per come siamo noi di sicuro sarà una cosa che mangeremo pian piano nel prossimo video ci vedete pian piano magari a posto di un altro dolce faremo che ne so di nuovo una bruschetta con sopra di questa di questa crema grazie e prima o poi la finiremo sicuramente ce la gusteremo pian piano quindi anche perché un bel barattolo non so se loro l'hanno l'hanno capito non ci sono i grammi purtroppo non ci sono scritti neanche qua sulla cosa 300 grammi ecco 300 grammi e non sono pochi un bel barattolo un bel sì e siamo solo due in casa non siamo comunque una famiglia di quattro persone vabbè al massimo arrivo io con un cappello poi arrivo io con una cosa facciamo finta che sono tanti ok dai chiudiamo sì quindi allora un grosso grazie a Sefirotto grazie per questo per questa parte 2 dell'assaggio dell'Emilia Romagna grazie mille ci sono piaciute tutte le cose che abbiamo potuto assaggiare anche questa volta abbiamo apprezzato anche lo strofinaccio che utilizzerò sicuramente come centrotavola più che altro ci mangeremo tutto salame formaggi tutto quello che c'è perché è tutto buonissimo vi ricordiamo che se volete anche voi mandarci prodotti tipici delle vostre zone magari volete farci provare qualcosa perché noi non abbiamo provato robe delle varie regioni tipo non abbiamo mai assaggiato roba pugliese mai assaggiato roba napoletana molisana siciliana non ho neanche potuto farti assaggiare tante cose della sardegna addirittura sard quindi a parte l'unica cosa di cui mi sono tirato indietro del del formale caso marzo caso marzo uno dei tanti che appunto è quello con i vermetti che saltellano da tutte le parti perché effettivamente ne sono spaventato e non mi invoglia non mi invoglia quindi mi dispiace quindi preferisco che il cibo sia morto che lo devo mangiare non lo voglio ingoiare vivo e quindi niente questo è se volete partecipare alla rubrica delle dediche sapete ormai come fare sia in via digitale in quanto meme fotomontaggi videomontaggi disegni cose varie digitali qualsiasi cosa ci trovate appunto sui vari social che di solito vi scriviamo in descrizione di ogni video come facebook instagram o anche tramite email direttamente che trovate nella descrizione del canale quindi in informazioni se invece volete spedirci qualcosa di fisico che sta dentro un pacco e va per forza spedito e bisogna sapere il nostro indirizzo ci mettiamo di solito in contatto sempre in via privata sugli stessi posti che abbiamo detto uguale e appunto ci mettiamo d'accordo anche per sapere il giorno e il codice di tracciabilità del pacco perché ripetiamolo non vogliamo che vada perduto già perché sarebbe un vero peccato e noi non abbiamo potere su sui mezzi di consegna non è che se una cosa la perdono la perdono non può neanche essere colpa nostra quindi è meglio sempre avere un modo per riuscire a risalire dov'è dove è andato a finire cosa succede quindi spero che questo video dedica vi sia piaciuto mi raccomando fateci sapere sotto nei commenti cosa ne pensate anche voi fatelo sapere soprattutto a Sephiroth che è il partecipante di questo video grazie ancora aspettiamo allora quando vorrai quando potete il sequel il sequel di questo video la parte 3 che dovrebbe partecipare anche la mamma se ho capito bene quindi ti aspettiamo carissima siamo qui ormai sapete come fare e abbiamo detto tutto iscrivetevi al mio canale per favore mi farebbe molto piacere avervi partecipanti al mio canale ho portato tante cose attivate la campanella lo ripetiamo sempre non per obbligarvi ma perché sappiamo che tanti di voi non guardano nemmeno se attiva oppure no e poi soprattutto su questo canale magari non ci bazzicate spesso i video non escono sempre quindi magari in quel momento ve lo perdete quindi attivare la campanella soprattutto su un canale che non porta spesso contenuti è ancora più utile si più utile proprio perché appena esce ricevete subito la notifica quindi niente questo è tutto ciao da Sony Lady Tech dal vostro Luca DNG ci vediamo al prossimo video dedica non perdetevelo ci vediamo ingrassati al prossimo video dedica ciao 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 ciao